Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse a Tommaso Io sono la via, la verità e la vita Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me Se avete conosciuto me conoscerete anche il Padre Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto Gli disse Filippo Signore, mostraci il Padre e ci basta Gli rispose Gesù Da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo Chi ha visto me ha visto il Padre Come puoi tu dire mostraci il Padre Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso Ma il Padre che rimane in me compie le sue opere Credete a me? Io sono nel Padre e il Padre è in me Se non altro, credetelo per le opere stesse In verità, in verità io vi dico Chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio E ne compirà di più grandi di queste Perché io vado al Padre E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò Perché il Padre sia glorificato nel Figlio Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome Io la farò Interessantissima questo brano Dove Gesù si presenta Parlando con Tommaso e Filippo Dicendo, afferma di essere Io sono la via, la verità e la vita Ma lo dice in un contesto ben preciso Nel contesto della comunione Tra lui e il Padre Gesù afferma anche come in altri contesti Tutto ciò che lui fa, vive, realizza, compie nella sua vita Avviene tutto dentro, non si può comprendere al di fuori della sua relazione con il Padre Sembra quasi a dire in altre parole Tutto parte dalla comunione Tutto avviene nella comunione E tutto è in vista della comunione E noi veniamo anche salvati in questa comunione E ci siamo, veniamo salvati per la comunione Per le relazioni importanti Per la fraternità E Gesù, oltre a consegnare dei contenuti Diciamo, importanti da capire, da comprendere Oltre a questo, consegna un metodo Un metodo, un modo, uno stile Che è lo stile della comunione E della comunione con il Padre Noi possiamo perdere in tante cose concrete Ma se rimaniamo nella comunione Anche quando non abbiamo ragione O perdiamo dal punto di vista, diciamo così Di quello che si può dimostrare Vedere concretamente Ma se si rimane nella comunione Questo rimane sempre un aspetto Una dimensione vincente Amen